L'agricoltura è diventato un tema, o meglio lo è sempre stato, questa amministrazione ha deciso di dare un taglio particolarmente attento al comparto dell'agricoltura cercando di affrontare tutti i problemi di questo comparto, in primis parlando dei problemi con chi è l'attore principale, cioè gli agricoltori e la cittadinanza. Si decide di puntare fortemente sull'agricoltura, ma per fare questo bisogna capire le origini, cioè il passato, i problemi odierni e puntare sul futuro. Puntare sul futuro significa puntare sulle reti di imprese, puntare sulla filiera trasformata, puntare sui mercati di nicchia in paesi dove la percentuale di crescita è nell'ordine del 10%, ricordando a tutti che l'Italia cresce con una percentuale che è sotto l'1%. Quindi noi produciamo la Ferrari dell'agricoltura, tra il cileggino, i carciofi e altre colture, a queste si aggiungono colture di nicchia, come ad esempio quella della canapa della famiglia Melfa che è riuscita da questo elemento a produrre un olio benefico con ricco di Omega 3 e Omega 6. Quindi su queste colture ed altro bisogna puntare, puntando in modo particolare sulla fascia trasformata, sulla trasformazione dei prodotti che hanno lunga conservazione e possono raggiungere i mercati più lontani.